Questa è stata una cantina alla quale la Francia ha meritato nettamente il livello di gioco. Noi dobbiamo usare questa sconfitta per vedere di... A parte risettare perché Romagna c'è una medaglia dalla quale abbiamo lavorato due mesi quasi, quindi dobbiamo andare in campo con la voglia, la gioia di non giocarci questa medaglia e poi credo che sia un'esperienza importante per noi fare questi titoli. Infatti abbiamo perso anche nettamente, sono dei punti di riferimento per un gruppo che vuole crescere e importante. Belle le finali in Italia, un palazzetto pieno di gente, tra l'altro in una regione che è di grande volle. Sì, è stato ancora più bello rispetto alla partita dei quarti perché c'era tantissima gente, tanta partecipazione. Ci dispiace un po' dare qualche gioia in più, però lo sport è fatto così. L'età media dei due gruppi, ti era notevole, l'età media, la differenza dell'età media ha pesato? È chiaro che un pochino alcuni aspetti ci possono stare. Diciamo, ha pesato alla loro qualità tecnica, oggettivamente, ma al di là dell'età. Noi, anche quando giochiamo bene, insomma, anche se sono giovani, non possiamo giocare. Quindi ha pesato sicuramente la loro qualità tecnica, la loro capacità di giocare. È una squadra che si conosce molto bene. Questo è un gruppo i francesi che hanno vinto, perso, vinto tanto insieme. Quindi sono, diciamo, nella parte matura del loro percorso. Noi siamo nella parte, diciamo, di crescita. Quanti anni? L'esperienza che diceva lui è pesata. Sì, è un po' l'esperienza. Cose che vedremo con più calma, diciamo... No, sono esperienze che intanto le devi passare. Alcune situazioni questo gruppo le deve passare. Com'è stata complicata la partita, no? L'olanda, 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 però lì siamo riusciti a trovare la strada. Oggi abbiamo incontrato, insomma, la squadra favorita sia per i mondiali che per le Olimpiadi. Abbiamo subito un certo tipo di pressione. E quindi quando dobbiamo preparare per incontrare queste, se vogliamo, insomma, come vogliamo, crescere e giocarci, anche noi, le nostre scienze, sappiamo che dobbiamo fare qualcosa di meglio e un certo tipo di percorso. Zaitsev ha fatto quattro punti nel terzo set, diciamo, porta qualche riflessione...